Previsioni meteo per giovedì 31 ottobre. Al nord cielo coperto ma con scarse precipitazioni su Piemonte e Liguria, sole su Veneto e Friuli, Venezia e Giulia. Al centro cielo spesso coperto con precipitazioni a carattere sparso ma diffuse su tutte le regioni a partire dal pomeriggio. Al sud instabile sulle regioni peninsulari. Venti deboli da nord-ovest. Mari leggermente mossi. Temperature in diminuzione.